La nuova provincia di Padova ha stanziato 700.000 euro per la ristrutturazione e messa in sicurezza del cavalcavia che collega il quartiere della Mandrea a Padova e il comune di Abano Terme. Le risorse stanziate serviranno per mettere in sicurezza la campata che sovrasta la ferrovia risistemando le strutture in calcestruzzo e rimuovendo eventuali parti in procinto di distacco o parti danneggiate. Si passerà poi a ripulire i ferri di armatura e ricostruire i copriferri protettivi. Il degrado più evidente dai lati verrà risanato ora che non è un'emergenza. Gli interventi di ristrutturazione e risanamento sono stati resi possibili grazie a fondi del governo contenuti nell'ultima finanziaria. L'intervento fa parte del piano triennale di opere pubbliche inserite all'interno del bilancio provinciale. E si dice soddisfatto il presidente della nuova provincia di Padova, Enoch Soranzo, di un intervento di messa in sicurezza stradale che negli anni passati, a causa delle scarse risorse economiche, non sarebbe stato così facile realizzare. Space Hammer Channel News, Padova